Buongiorno e buon sabato dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Sulla FIPILI due chilometri di coda tra Santa Croce sull'Arno e Pontedera Est in direzione Livorno. In A1 verso Roma un chilometro di coda per un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo. In A11 sono possibili disagi per un incidente avvenuto in uscita a Prato Est provenendo da entrambe le direzioni. Sulla statale 64 Borrettana in provincia di Pistoia per lavori di riqualificazione della galleria Signorino tra i chilometri 12 e 600 e 13 800 il traffico è regolato a senso unico alternato con semaforo. Per la viabilità cittadina a Firenze in Viale Amendola chiuso il controviale tra Viagiotto e il numero civico 48. Il termine previsto è il 15 settembre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!